Benvenuti sul mio canale, oggi parleremo di espressioni romane, in specie al modo di Berta Filava. Ogni dialetto ha i suoi peculiari modi di dire. Un modo di dire è un'espressione grammaticalmente anomala. Gran parte delle espressioni idiomatiche possiede un senso figurato. Espressione ancora viva tra gli anziani è il detto non è più il tempo che Berta Filava. In consapevole riferimento forse a un'antica storia popolare tramandata di generazione in generazione. Berta era una filatrice di lino dell'antica Roma, che un giorno incontrò per caso Nerone e gli augurò di campare mille anni. L'imperatore colpito da tale augurio le comandò di tornare al lavoro e portare a palazzo tutto il lino che avrebbe filato fino al giorno dopo. Berta, terrorizzata e ignara, pensò che Nerone l'avrebbe uccisa. Filò tutta la notte e il giorno seguente, piena di paura, portò il lino a cuore. Nerone ordinò di donarle tanta terra quanto filo aveva buttato. Berta diventò ricchissima. E allora si scatenò una corsa a portare grandi quantità di lino all'imperatore, nella speranza di ricevere il medesimo trattamento che tocco a Berta. Ma Nerone rispondeva, non è più il tempo che Berta filava. Non è più il tempo che Berta filava. Un esso ancora adesso valido, dopo tanti, tanti, tanti anni. E come dico sempre, se il mondo ce l'ha con te, tu divertiti. E come dico sempre, se il mondo ce l'ha con te.